Benvenuti a tutti, sono Michele, continuiamo con FIFA 23, con il campionato che ha realizzato la serenità. Poi dobbiamo cercare uno del PSC. 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 Grazie. 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 non c'è nessuno non c'è nessuno il tutto ciò che si trovi a che si trovi il giro che la gente fa che si trovi e che sono a che a che si trovi a che ok, ora vediamo no forno no 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 so in l'an il 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no champions Non c'è bisogno 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 Allora 11 Abbiamo fatto solo E' peccato Poi vediamo Salviamo dachte Poi non ho raffa ma se la buona vostra fate le vederci Allora, la gestione è qua. Allora, il Fofon Hub, la sensazione delle gallole, i detti, la mamma non è portata. Allora, questa la mamma, la mamma è vista. Facciamo scopo di, mire, ti mostro di, o, la mamma è vista. Allora, la mamma è vista. Allora, la mamma è vista. Allora, ora la facciamo per rimanere un altro anno. non l'ho vendevo, vediamo un po', ma come va, ho sentito venito di portarmi pure Modric e poi la scala si mette un'altra l'orochim è incidibile, l'orochim è incidibile, si ma neanche quella scala, quello qua fa bel ruzzo va bene ma vabbè neanche una ruota a Napoli, poi sarebbe buono prenderla, però vado sempre i soldi quando è questa non posso dare rispettare, ma come va, non o non come va, ma come va, non sono per me, ma come vaат buona, ma come va, non sono per me, ma come va verso l'andere a cammino ma non mi ha fatto c'entro campo l'ombele e zambon muestra aggiungi due ipi ma con il zambon qui metti andò sul musico e l'escaliano sul musico è sempre una gara e va va qua inizia va inizia varse a me vittima qui mi 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 qui mi mi qui mi mi no però 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 va in dera, in dera nooo, troppo a giro nooo, troppo a giro 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 Oh god Oh god Vai guardiamo un'altra parte no non sono non 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 no non 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 si ma lindovella Grazie. E' il L Gillette. Quero qu'est-ce que c'est ça? Il est où là? Il n'a pas de froid. 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 no no è che qua, viacce da stresare però tutto no ai c'ambo rinche palamazzo no 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 Ah, che bella! Alla ora, non è così paura! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No però no. Grazie a tutti. Oh. 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 Oh mamma mia, avrete vaio 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 a l'algo a l'algo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie. E' una nuova spazzola. E' una nuova spazzola. Inoltre, i miei navi. E' una nuova spazzola. Ma c'è una nuova spazzola. Ma è stato straordinato. vediamo che c'è in chat non c'è un ruolo intero non c'è un ruolo intero Su fono, su fono posto da ciò. Listo, dove sta? Ecco, mo imbri, ma è vero. Ho... Ho un zero. Ho un zero. Ho un zero. Torniamo a porto un'asso. Meretta. Allora. Allora 1. no no non bene non bene minetti portiamo pure galla galla per qua i frattesi qua ci portiamo dove sta un po' dove ci portiamo un livello frimpong in questo qua sta a non sta david ecco david non è davidimo e rilamo attramanli david 2 2 2 ho un dosso no mettero e poi vediamo ho un dosso posso necandola che non è ma un'altra parte ho un diritto No, 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 no E tu? Con il numero 11, Joaquin Correa. E con il numero 10, Lontano Martinez. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Non, non d'ai assai. E tu? E tu? E tu? E tu? Non apporto. Ma c'è nessuno No, però è nessuno No maudra, ti chiamo la velocità di roba T'ho lasciato un rato oh mommy oh mommy oh mommy oh mommy oh 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 No, no, no. No, vabbè che non la posta. Noo. guarda droga maa 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 malakka gadi su harco malakka gadi maa su harco no 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 ok 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 Noi dai Jonathan Bemid Giorgio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Fuck. Grazie. 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 torno bravo no, posso raggiunglo cosa da fare, torno va bene è stata bravo è stato un'altra è stata un'altra è stata un'altra la strada è stata un'altra un'altra non c'è bravo c'è tanto a dormire non c'è tanto a dormire non c'è tanto a dormire si ma vacca con la sua attrava per far il cao il cao non c'è tanto In campo, con il numero 4, Iosif Contevo. In campo, con il numero 4, Valentino Lanzaro. In campo, con il numero 16, Justin Cullivert. No, io vado a un punto, con il numero 4. Ma con un verso io. Eee, che caz, voro vado, vado. eh però sembra un po' sembra fallo questo su cazzo i canali e questo è il momento che cazzo di più